Senko, che combini? Il gesto dell'ex Juve confronti di un bambino è crudele. Sonbor Senko è stato protagonista di un gesto aspramente criticato. L'ex portiere della Juventus next gennaio. Attualmente in forza al dius giore VTK, ha crudelmente negato la possibilità a un bambino di segnare nel corso dell'intervallo del match giocato contro l'MTK Budapest. Fischi a Senko per il brutto gesto in occasione del compleanno, infatti, il bambino aveva avuto la possibilità di entrare in campo e di gonfiare la rete, una gioia che rappresenta il sogno di tanti piccoli appassionati di calcio. Il bimbo in questione, però, ha dovuto fare i conti con Senko che in ben due occasioni gli ha parato il tiro. Negandogli la gioia di segnare. Inutile dire che il gesto del portiere è stato duramente fischiato e criticato dai presenti. Grazie.